eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty buongiorno ragazzi come sempre prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace ed iscrivervi per non perdere tutte le ultime notizie sul mondo di call of duty e come avete visto anche recentemente con aggiornamenti in tempo reale anche sul mondo apple stiamo ritornando anche a mettere qualche chicca sulla tecnologia in questo momento diciamo così un po di mortorio di novità di call of duty anche se adesso sono state annunciate tutte le novità di halloween dell'evento the hunting che vedremo bene in questo video salvatevi il primo link in descrizione se dovete comprare videogiochi nuovi videogiochi del passato gift card xbox e playstation il game pass ad esempio di xbox scontato il core di xbox e via dicendo e tutto quanto come sapete poi troverete anche tantissimi giochi scontati mentre oggi alle 14 sarà come sempre il live se ancora avete fatto iscrivetevi sulla piattaforma viola se avete amazon prime potete supportarmi con la sub è gratuita quindi vi aspetto alle 14 vi risponderò alle vostre domande per fare tutti gli approfondimenti del caso ma partiamo e parliamo dell'evento the hunting tutto quello che riguarda un evento dedicato ad halloween sul mondo di call of duty che inizia il 27 di settembre ma sarà ovviamente scaglionato fino al 10 di novembre quindi durerà un mese e mezzo partiamo innanzitutto con the hunting che arriva su mother warfare 2 preparati per brividi spaventosi in un morti la caccia di squadre per abbattere mostri giganteschi e famigerati jumpscare mentre the hunting torna su call of duty la bocca dell'inferno si è aperta versando creature ultraterrene degli inferi e un terrore strisciante saggettamente inghiottendo tutte le anime mentre infette la totalità di almasara raggiungendo anche i canali insanguinati di vondel ma andiamo a vedere tutti i dettagli più interessanti dicendo che l'evento the hunting inizia ufficialmente a metà stagione portando mappe modalità eventi tutta a tema halloween su entrambi i giochi quindi su mother warfare e su warzone preparati per spaventi agghiaccianti feroci battaglie che ci attendono sia sul multiplayer sia sul battle pass che su warzone ma entriamo nel vivo del video con le panoramiche e quindi le panoramiche generali sia su warzone sia su mother warfare 2 sull'evento dedicato ai non morti diciamo così partiamo da warzone dove viene introdotta l'operazione nightmare che arriverà a metà stagione dovremo indagare su delle anomalie attraverso la mappa e affrontare una serie di obiettivi mostruosi con delle ricompense poi ci sarà bond dead quindi praticamente una versione completamente diversa di vondel tutta con un'epidemia zombies infatti i non morti hanno devastato le strade sotto una luna rossa e quindi avremo vondel in versione notturna e non soltanto quella perché anche al masara arriverà in versione notturna ci sarà la modalità zombies royale che molti di voi già ricorderanno che abbiamo già giocato su verdansk dove diventeremo zombies se veniamo infettati e poi una volta infettati dovremo andare a catturare tutti gli umani rimasti ancora normali tornerà inoltre lockdown in una versione con maggior bottino maggiori eventi maggiori ricompense e via dicendo partiamo con l'operazione nightmare che arriverà a metà stagione come potete vedere al masara arriva in versione notturna oltre a questa cosa qua ci saranno una serie di dettagli e di ricompense da dover trovare tipo ad esempio un antico complesso di tombe è stato portato alla luce nota come il faraone i testimoni riferiscono di aver visto strane luci nel cielo notturno e anche un fenomeno anomalo non identificato potremo fare incontri spettrali ci saranno delle paludi ci saranno delle regioni con complete e diverse illuminazioni e poi anche particolari richiami anche alla luna e a jumpscare all'interno della mappa oltre ad al masara nella versione di halloween sarà presente anche bonded quindi bondel metà stagione arriverà in versione notturna tutta quanta a quanto pare sempre a tema di halloween e anche qui ci saranno dei richiami sempre al mondo di halloween e via dicendo zombies royale ve l'ho detto precedentemente sarà una modalità tempo limitato la potrete trovare sia su al masara sia su bondel quindi i morti camminano sulla terra e si riuniscono in una versione particolare raccapricciante sia su al masara e di bondel quindi come vi ho detto prima durante una partita di zombies gli operatori morti non andranno nel gulag perché il gulag è chiuso ma i loro cadaveri verranno rianimati come non morti quindi bisognerà andare poi a catturare tutti gli umani rimasti ancora in essere stesso discorso per la bonded lockdown che sarà una modalità tempo limitato anch'essa a metà stagione la metà stagione adesso andremo a vedere ma sarà il 17 di ottobre e anche qui ci sarà tutta questa modalità occupazione con obiettivi ricompense e via dicendo sempre a tema sanguinoso e zombies le novità sempre a metà stagione dedicata a the hunting riguarderanno anche le attrezzature e soprattutto i bottini mi spiego meglio ci saranno delle cose molto particolari sulle varie mappe ad esempio la funzionalità diciamo così e la novità delle anime catturate praticamente quando andremo a uccidere le persone otterremo delle delle anime che si accumuleranno facendo uccisioni e sconfiggendo degli esseri mostruosi queste anime potranno essere assegnate istantaneamente una volta che le abbiamo raccolte e queste anime potranno essere scambiate con delle ricompense poi ci saranno delle scatole infestate anche in questo caso ci saranno delle ricompense come piastre munizioni attrezzature particolari e varie ricompense la novità si riguarderà anche ad esempio la granata blood seeker che è modellata nella forma di un pipistrello che è una granata vivente che si attacca ai nemici e li mette in evidenza nella visione termica quindi è molto particolare per uscire a vederne le operazioni notturne i nemici inoltre ci sarà il classico dolcetto e schersetto quindi dicono che ci saranno delle sorprese terrorizzanti durante questo evento day outing e speriamo di non saltare con la sedia come successe se ben vi ricordate ragazzi su verdasca day outing arriverà anche su dmz ma queste novità anche su dmz arriveranno su sempre in metà stagione quindi tutte le cose di cui abbiamo parlato precedentemente verranno anche tradotte su dmz inoltre dicono che i giocatori possono aspettarsi che quindi tutti gli eventi relativi ad almasara e all'attività presente a day outing arriveranno anch'esse su dmz quindi queste sono le novità principali che vi devono riguardare se state aspettando novità su warzone se state aspettando invece novità su mother warfare 2 avremo due mappe nuove 6 contro 6 due mappe gunfight 6 contro 6 al lancio di questa nuova stagione ci saranno due reskin dei mappe parliamo di el asilo ed embassy che andranno tutte a tema diciamo sempre halloween e poi ci daranno anche qui jumpscare zombies e teschi modalità particolari a tema zombies e halloween ma andiamo a vedere la mappa nuova saranno la casa che è una mappa core quindi 6 contro 6 sempre disponibile al lancio definiscono questa mappa come il centro del paradiso di las almas in messico in una nuova mappa dell'infinity world quindi finalmente una nuova mappa che prende vita sempre da quella che dovrebbe essere poi la futura mappa di warzone con tutte le modifiche avevo detto nei giorni passati e poi ci sarà il villaggio di coro sempre un'altra mappa che ci riporterà indietro invece nel 2005 perché la rivisitazione quindi la remake di 2 gen che era una mappa che avevate giocato se ben vi ricordate su call of duty 2 poi avremo la mappa king che è una modalità gunfight sempre disponibile all'interno del lancio se ben ve la ricordate l'avamo vista su mother warfare 2019 nella stagione 6 e poi l'altra modalità sempre gunfight un'altra mappa che è fight che sarà disponibile sempre all'interno della nuova stagione 6 che arriverà il 27 di settembre ma vi ho parlato anche di due mappe reskin vi faccio vedere la prima immagine reskin di l'asilo che appunto è tutta completamente ridisegnata a tema de hunting con le prime immagini ed embassy che la potete vedere anche qui sempre con cose infuocate tutte illuminazioni particolari la notte sembra proprio che come viene riportato c'è stato un vero e proprio attacco devastante a zombies anche nelle modalità classiche di mother warfare ci saranno delle modifiche quindi avremo ad esempio the hunting dominion domination quindi un dominio in versione halloween quindi anche questa sarà molto particolare ma ci saranno anche altre cose interessanti sempre tra modalità multiplayer e zombies come hunting uccisione confermata hunting drop zone hunting infetto quindi ad esempio nel quest'ultima gli zombies saranno e riguarderanno appunto tutto ciò che verrà infettato come zombies rispetto alla normale modalità infetto ma vi faccio vedere anche altre novità interessanti partiamo innanzitutto con l'evento soul capture che sarà caccia alle anime che richiama un po quello che vi dicevo precedentemente che sarà una sorta di caccia ai trofei della stagione 3 andando a raccogliere le anime delle versioni ovviamente eliminate potremo poi trasformarle nella scheda eventi all'interno del gioco ma ci saranno anche ricompense di accesso giornaliero che arriveranno però a metà stagione sempre all'interno del titolo ma vi faccio vedere anche in anteprima invece le ricompense per le modalità classificate quindi per le ranked sia di mother warfare 2 che di warzone le potete vedere qui nella parte sinistra quelle di mother warfare 2 nella parte destra tutte quelle che potrete riscattare su warzone ad esempio il signal 50 in una versione completamente diversa e viola e quindi a video potete vedere tutte le varie ricompense così potete mettere un bel pausa e voi le potete leggere con calma arriveranno anche nuove armi partiamo dal tr 76 jayst che è un fusile d'assalto con munizioni da 7 e 62 questa sarà presente come sempre all'interno del battle pass seconda arma confermata che abbiamo già visto precedentemente una nuova versione della iso che viene parlata e definita da 9 mm con alta velocità di gioco anche questa presenta al lancio e sarà presente sempre da livellare nel battle pass cosa curiosa il brune che era stato trovato nei file di gioco completamente scomparso altra arma che si troverà dentro al battle pass è il dual camas quindi ovviamente i doppi diciamo così lame celate doppi picconi che si potranno sempre ottenere all'interno del battle pass mentre a mid season quindi a metà stagione arriverà la motosega direttamente da una collaborazione con la serie doom però questa sarà acquistabile solo e soltanto tramite un bundle questa versione della motosega si chiamerà super shotgun molto devastante inoltre come potete vedere ci saranno variazioni molto interessanti su su bundle che sarà a mio avviso la mappa che avrà molti più variazioni rispetto al masara infatti poi lo andremo a vedere mentre qui possiamo vedere alcuni dettagli sulle varie attrezzature che cambieranno come le mine di soppressione che cambiano genere e soprattutto suono e anche le decoy grenade il black cell arriverà anche in questa stagione 6 sempre con il classico prezzo di 30 euro e introdurrà valeria come giocatore ed operatore esclusivo di questa stagione oltre al valeria troveremo nuovi operatori troveremo el simons eccolo qui il nuovo operatore che sarà disponibile per i giocatori che acquistano il sistema del battle pass della stagione 6 quindi sarà disponibile immediatamente mentre l'operatore classico di questa season ma l'avevamo praticamente immaginato è spawn spawn sarà la skin di livello 0 e la skin di livello 100 questi sempre comprando il battle pass mentre poi arriveranno altre skin più avanti quindi saranno presenti all'interno del battle pass e soprattutto all'interno del black cell e le varie versioni ve le faccio vedere le varie skin che saranno disponibili man mano all'interno del battle pass vi faccio vedere quella di vega e faccio vedere quella di nito comunque sono molto carine tutto a tema sempre halloween per chi gli piace appunto questo genere mentre in corso di season arriveranno dei bundle con licenza l'avevamo già anticipato di diablo arriveranno in arius e lilith arriveranno skeletor quindi direttamente il signore del male arriverà addirittura ash williams da evil dead 2 e per finire avremo addirittura alucard da helsinki e una nuova skin per gaia oltre a quello che vi ho detto richiamo la motosega e questa collaborazione con doom che introdurrà principalmente doppio pacchetto di armi quindi motosega e fucile a lungo raggio come diciamo un nuovo pompone per concludere relativamente a questa stagione si arriverà e si partirà come sapete si potrà livellare dal prestigio 21 fino al prestigio 25 queste le varie ricompense dei nuovi 4 prestigi e i livelli che raggiungeremo inoltre viene sempre riportata tutta la gestione che tutto quello che adesso sbloccheremo e compreremo anche della stagione 6 verrà riportato su mv3 e poi le varie date nuovamente della beta la roadmap quindi stagione 6 27 settembre 5 ottobre codenex dal 6 al 16 la beta ma ci sarà un buco diciamo così dal 10 al 12 il 17 l'evento halloween e the haunting all'interno del gioco 2 novembre campagna in accesso anticipato con il preordine di mv3 10 novembre il lancio di mv3 questo era tutto quello ragazzi che volevo dire nel nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty supportato con un bel mi piace iscrivetevi se siete nuovi e ci vediamo alle 14 live su twitch per tutti gli approfondimenti